Nell'ambito del progetto Adolescenti tra identità reale e identità virtuale implementata a Nuoro da nuovi scenari, IFOS, CTS e reti di scuole di Nuoro, lunedì sera all'Olamagna dell'ITC Chirone ha ospitato un incontro dibattito intitolato Il genitore digitale. L'obiettivo è quello di creare un network di genitori e insegnanti per prevenire gli action out degli adolescenti. All'incontro, coordinato da Pino D'Antonio, presidente dei nuovi scenari, è intervenuto il sociologo Gian Piero Branca, ricercatore dell'Università di Sassari. È un progetto che diversi partner, nell'ambito delle proprie competenze, stanno portando avanti da diversi mesi nelle scuole cittadine e non solo, al fine di creare una rete fatta di esperti, genitori e insegnanti in grado di interagire e scambiarsi informazioni e che sia in grado di prevenire o di intervenire in caso di comportamenti scorretti o pericolosi da parte dei giovani sui social o su internet. Attività che spesso i ragazzi in attivi digitali che trascorrono con essi sui social tante ore della loro vita sottovalutano e che possono portare a mettersi nei guai con la giustizia, violando norme penali o incorrendo in serie rischi per la propria incolumità fisica o psicologica. Al progetto hanno aderito una settantina di genitori del centro Sardegna. Si vuole creare anche un forum che vede i genitori e insegnanti fare fronte comune, innanzitutto per capire questa nuova realtà digitale che non ha precedenti, con i ragazzi che sono un passo in avanti rispetto agli adulti, e poi riuscire a trovare un dialogo comune con i propri figli e gli alunni al fine di portarli ad una consapevolezza del loro agire nel mondo digitale. Renderli consapevoli delle conseguenze che può avere anche dal punto di vista penale un like su un determinato post o la condivisione di un video. A fine settembre i nuovi scenari e i suoi partner hanno organizzato un seminario rivolto agli addetti ai lavori. Qui ha preso parte, tra gli altri, l'avvocatessa statunitense Perry Aftab, esperta di diritto minorile, e di tutti gli aspetti della cyber law, cyberbullismo, criminalità informatica e privacy, che ha tracciato un quadro completo di quanto avviene nel mondo in questo campo.